Musica Teggiano, ieri il convegno su Teggiano Futura, sviluppo e innovazione fuori dai luoghi comuni. Presentato il protocollo d'intesa con la Fondazione Ampioraggio. Sant'Arsenio, la Banca Montepruno si prepara al futuro durante la convention, presentati progetti e iniziative per adeguarsi al mercato. Padula, la formazione dei giovani a tutto campo, presentati progetti formativi ed educativi di scuola viva, promossi dal liceo scientifico Carlo Pisacane. Figgici Campania, eletti rappresentanti all'Assemblea Nazionale. Sport Calcio al Certosa di Padula, il derby Sassano-KO con la Gregoriana. Buonasera e bentrovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Andiamo a Teggiano in apertura dove ieri sera presso il Castello Macchiaroli si è tenuto l'incontro dibattito per presentare una nuova iniziativa del Comune di Teggiano, voluta dal consigliere comunale con delega al bilancio, Cono Morello. L'iniziativa punta attraverso la stipula di un protocollo d'intesa con la Fondazione Ampio Raggio ad una proficua collaborazione finalizzata alla formazione dei giovani e alla stimolazione degli stessi verso la realizzazione di progetti utili a migliorare la qualità della vita dei piccoli e dei grandi centri urbani. Puntare quindi sull'innovazione per crescere e per ottenere uno sviluppo adeguato alle potenzialità del territorio su cui deve operare. L'appuntamento oltre a presentare il progetto lavorativo da portare avanti in collaborazione con la Fondazione Ampio Raggio è stata anche occasione per presentare e discutere del nuovo bando della Regione Campania legato al tema in discussione denominato Benessere Giovani che punta sulle eccellenze locali per la promozione di idee su cui investire. Presenti ieri all'incontro numerosi esponenti politici locali e non con l'arrivo a Teggiano anche dell'onorevole Simone Valiante di Flavia Marzano, assessore al Comune di Roma, Serena Angioli, assessore regionale con delega ai Fondi Europei e Politiche Giovanili e Sebastiano Greco in rappresentanza dell'Associazione Monte Pruno Giovani che collabora al progetto. Ma seguiamo le interviste realizzate ieri sera a Teggiano. Con questo protocollo di intesa iniziamo un percorso verso l'innovazione e lo sviluppo, creare imprese innovative in questo territorio. Con la Fondazione abbiamo in cantiere una serie di progetti da cui partecipare al bando di Benessere Giovani in cui presenteremo un progetto su tutte e tre le tematiche che il protocollo prevede. Il primo obiettivo del progetto che andiamo a presentare è creare la cultura di impresa, quindi fare un percorso formativo di 24 mesi per portare alla creazione di nuove imprese o di lavoro autonomo, ma anche formare i giovani presso le aziende del territorio e allo stesso tempo educare la legalità. Quindi tutti e tre gli obiettivi previsti dal bando Benessere Giovani saranno attivati. Un progetto, quello legato al bando Benessere Giovani, che col Comune di Teggiano stiamo studiando per un'integrazione tra i fabbisogni di innovazione del territorio e i fabbisogni di formazione qualificata dei giovani del territorio. L'obiettivo è ridurre lo spopolamento, ma anche qualificare i ragazzi in un modo coerente con quelle che sono le dinamiche che oggi in qualche modo l'innovazione ci porta davanti. Quindi l'idea è quella di poter realizzare un esperimento molto ambizioso, partendo da Teggiano, di collaborazione tra una grande città e un piccolo centro del sud, sperimentando l'innovazione che può servire a entrambi e formando dei ragazzi del territorio a utilizzare questa innovazione, coinvolgendo start-up da varie parti d'Italia, grandi player come Telecom, a realizzare questa cosa. Una scommessa che parte da Teggiano. C'è una strategia che si sta tentando di mettere in campo, che va nella direzione di utilizzare una serie di strumenti finanziari e anche di risorse comunitari, come nel caso del bando che si presenta questa sera con l'assessore Giornale Angioli, che va proprio nella direzione di dare un protagonismo nuovo e diverso ai giovani del nostro territorio. È chiaro che è un processo lento e molto faticoso, perché l'esigenza di lavoro, che è la prima condizione che consente ai nostri ragazzi di rimanere su un territorio, non la si realizza in maniera automatica attraverso l'utilizzo di risorse, anche di risorse comunitarie, ma attraverso la possibilità di sfruttare le opportunità che queste risorse riescono a mettere in campo, facendo lavorare insieme le istituzioni, sollecitando gli imprenditori di un territorio. L'obiettivo è anche questo, è quello di tenere insieme queste cose che sono requisiti ovviamente fondamentali per lo sviluppo di un territorio. Stiamo per battezzare un protocollo di indesa che è stato già fatto qualche mese fa con questa fondazione, perché la fondazione ci aiuterà a mettere in essere quelli che sono i bandi regionali e potremmo seguire e cominciare a parlare di formazione, in modo che i giovani di questo territorio, oltre che si evita lo spopolamento, come già hai detto prima, però la cosa fondamentale è che mettiamo in condizione che i giovani non sono secondi a nessuno. Questo territorio ha le carte in regola, l'ho sempre detto, lo continuo ad affermare, manca soltanto che la politica si incomincia a interessare di queste misure. Noi questo vogliamo fare, cerchiamo insieme quello che l'assessorato regionale, insieme al Comune di Roma, insieme alla fondazione, vogliamo mettere in pratica questo protocollo se ci riusciamo. Noi quello che vogliamo fare, che abbiamo cominciato a fare, è fare squadra tra tutti i comuni d'Italia, tutti quelli che vogliono, sull'innovazione, perché riusare esperienze altrui, per evitare di rifare errori altrui e quindi lavorare insieme. Ognuno ha da portare qualcosa, è giusto che copiamo, proprio perché siamo anche in momento di spending review, quindi copiare le buone idee per farne delle nuove, arricchirci insieme e collaborare, questa è l'idea. È un'iniziativa che cerca di mettere in moto un po' le giovani generazioni, ma soprattutto un partenariato locale caratterizzato da quelle che sono le opportunità che il mercato locale può offrire. Per cui la caratteristica principale di questo avviso pubblico è un partenariato qualitativo che risponda alle specificità dei territori. Come è noto, il rapporto tra i giovani e l'amministrazione comunale è forse un rapporto privilegiato che dovrebbe mettersi in campo, per cui i comuni anche devono fare la loro parte, perché devono fare un po' da regia per attivare giuste risorse locali e fare in modo che nel tempo e costantemente ci siano dei luoghi in cui i giovani si ritrovano, possono sviluppare le loro idee, essere stimolati, fare esperienze nelle aziende e essere meglio orientati nelle scelte professionali e anche di vita. La cronaca prosegue la vicenda giudiziaria legata al caso Solimo. Questa mattina ha preso il via il processo a carico dell'ex moglie di Sergio Solimo, Tania Polito, la quale non rispettando il divieto di espatrio portò il piccolo in Venezuela, togliendo dall'affetto di suo padre. Soltanto a termine di una lunga battaglia il padre del piccolo Sergio Solimo si è visto riconoscere la podestà ceditoriale e ora vivono insieme a Sant'Arsenio. Questa mattina il processo, che però per difetto di notifica è stato spostato al prossimo marzo 2017, ma per la donna è stata disposta comunque la misura cautelare degli arresti domiciliari che verrebbe applicata al momento in cui la donna torna in Italia. Ancora cronaca, due studentesse di Polla di 21 e 23 anni sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato in concorso. È successo a Perugia dove vivono per motivi di studio le due. Ora agli arresti domiciliari, alle casse di un centro commerciale della città urbana avevano nascosto nello zaino due paia di scarpe e una felpa, mentre una delle due aveva messo addosso un'altra felpa rubata. Inoltre le forze dell'ordine hanno rinvenuto nella borsa anche le tronchese usate per togliere le targhette antitaccheggio. Cambiamo argomento, il mercato si evolve, le esigenze cambiano e si moltiplicano, per questo motivo la banca Montepruno punta ad un cambiamento senza intaccare la sua mission, ma che sia in grado di essere al passo con i tempi. Il futuro dell'istituto di credito e le prossime sfide da affrontare sono state al centro della convention che si è svolta sabato scorso a Sant'Arsenio, in cui si è parlato anche della prossima fusione con la BCC di Fisciano. La banca Montepruno, proiettata al futuro, è già pronta a proseguire nel suo percorso di crescita, adeguandosi all'evoluzione rapida dei tempi. Questo in sintesi reso conto della convention di fine anno che si è svolta sabato scorso a Sant'Arsenio e che ogni anno riunisce dipendenti e collaboratori dell'istituto di credito diretto da Michele Albanese per fare un bilancio dell'anno appena trascorso e per tracciare le linee guida delle azioni per l'anno successivo. Una convention caratterizzata da importanti novità che hanno riguardato la banca Montepruno in quest'anno appena trascorso, con l'individuazione di tre nuovi vice direttori che andranno ad affiancare e supportare nelle rispettive competenze le attività del direttore generale Michele Albanese. Ma protagonisti della nuova e futuristica banca Montepruno dovranno esserlo tutti i dipendenti dell'istituto che avranno un ruolo sempre più centrale nella crescita dell'azienda bancaria rendendosi protagonisti dei successi futuri. La convention di sabato scorso, moderata dal responsabile area comunicazione Antonio Mastrandrea e introdotta dal presidente Anna Misce e dal direttore generale Michele Albanese, ha avuto come argomento di partenza la presentazione dei successi che hanno caratterizzato questo 2016, presentati dal vice direttore Cono Federico e che rappresentano la base su cui lavorare nel nuovo anno. Un lavoro che dovrà portare all'adeguamento rapido, efficace ed efficiente della banca Montepruno all'evolversi del mercato. Cambiamenti spiegati dal vice direttore area mercato Antonio Pandolfo che nella sua relazione ha analizzato e approfondito la tematica relativa all'evolversi sotto l'aspetto commerciale del mercato di riferimento. Il mondo bancario sta comunque subendo una rapida modifica che richiede un'immediata integrazione con le necessità di una società anch'essa in costante evoluzione. Ed è proprio sulla necessità di cambiare per integrarsi che è intervenuto Giulio Carè dell'Accademia BCC con la sua relazione sull'integrazione e cambiamento. Questa è la domanda che ci si è posti sabato scorso nel chiudere questo anno 2016 dell'attività della Banca Montepruno. Un anno interessante anche perché ha posto proprio basi importanti per il futuro vista anche l'importante progetto di fusione che vede l'Istituto di Credito diretto dal Banese avvicinarsi al mercato e al territorio di Salerno attraverso la vicina fusione con la BCC di Fisciano che insieme rafforzeranno e completeranno la presenza su tutto il territorio salernitano. In vista della fusione quindi e visto l'importante sfida che i due istituti di credito si apprestano ad affrontare per arrivare preparati e competitivi all'evolversi del sistema BCC sabato scorso erano presenti a Sant'Arsenio anche i vertici della BCC di Fisciano con il presidente Domenico Sessa ed un gruppo di collaboratori che stanno lavorando con la Banca Montepruno all'ambizioso progetto di fusione. Celebriamo un altro anno davvero sopra le righe hanno sottolineato il presidente Miscia e il direttore generale albanese che ci fa guardare al futuro con grande positività. La nostra presenza sul territorio sarà sempre forte perché vogliamo ridare al territorio ciò che lo stesso dà a noi ogni giorno. Grazie a quello che siamo riusciti a creare, continuano, il futuro non ci fa paura, anzi siamo pronti e decisi a fare ancora di più. Il nostro territorio ha bisogno di artigiani del credito che conoscono il territorio e le qualità delle tante e valide piccole e medie imprese presenti. Non servono parole, concludono, ma concretezza e risultati reali. Noi continueremo a farlo. Nei giorni scorsi presso Palazzo Giustiniani a Roma si è parlato del tema della collaborazione tra Stato e Comuni in materia di accertamento. Presente tra i relatori è anche l'assessore al bilancio del comune di San Pietro Altanagro, Antonio Pagliarulo. È nato un libro che vuole fungere da supporto agli amministratori locali nell'ambito dell'accertamento. Il libro è stato presentato a Roma lo scorso 13 dicembre e tra i numerosi relatori di grande spessore ha anche il nostro assessore al bilancio del comune di San Pietro Altanagro, Antonio Pagliarulo. Presso la prestigiosa Sala Zucca di Palazzo Giustiniani a Roma, martedì scorso la presentazione del libro I Comuni e la partecipazione all'accertamento dei tributi statali, strumenti, percorsi di indagine e accesso ai dati, edito dalla Fondazione IFEL su iniziativa del Senato della Repubblica. L'opera, realizzata da Antonino Gentile, già direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, raccoglie l'esperienza dell'autore direttamente impegnato sui temi relativi all'accertamento fiscale per fornire un valido supporto e un ausilio concreto ai funzionari comunali che siano interessati ad intraprendere e a sviluppare una concreta e attiva partecipazione all'accertamento, anche a supporto dei propri cittadini. Attraverso la presentazione del testo è stato possibile anche avviare un dibattito che ha messo in luce interessanti aspetti legati alla collaborazione tra Stato e Comuni, che al momento risulta fruttuosa e fattiva solo in un limitato numero di territori. Su questo tema particolarmente sensibile, Antonio Pagliarulo, presente tra i relatori, ha avuto modo di presentare le difficoltà che interessano soprattutto i piccoli comuni lontani dei centri di interesse e visti sempre come enti marginali. Pagliarulo, invitato a relazionare accanto ad altri assessori al bilancio, ma di grandi città come Roma e Venezia, ha avuto l'occasione quindi per rappresentare i tanti piccoli comuni e le loro esigenze e difficoltà. Durante il dibattito è emersa la difficoltà descritta dall'assessore Pagliarulo dei piccoli comuni, che rappresentano circa il 70% dei comuni italiani, di affrontare concretamente questo tema. La proposta lanciata da Antonio Pagliarulo e rivolta al senatore Loiero e ai vertici del Lanci è stata quella di riuscire a concepire una norma che preveda un servizio associato per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che consenta la creazione di un team di risorse umane, formate, che instauri un collegamento più diretto con la direzione regionale delle entrate e la guardia di finanza. La presentazione del libro è stata quindi occasione primaria per accogliere anche le istanze provenienti dai territori in materia di accertamento. A introdurre i lavori Veronica Nicotra, segretario generale Anci, e Pier Ciro Galeone, direttore IFEL. A seguire gli interventi del consigliere Renato Loiero, direttore del Servizio Bilanci del Senato della Repubblica, del curatore del libro Antonino Gentile, e di Andrea Ferri, responsabile della finanza locale Anci. A concludere i lavori Guido Castelli, presidente di IFEL e sindaco di Ascoli Piceno. Andiamo a Teggiano, questa mattina si è verificato un guasto all'impianto dell'acquedotto che porta all'acqua nel centro storico di Teggiano, un danno che ha provocato numerosi disagi per la comunità, con il primo cittadino Michele Di Candia che ha rapidamente emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole del centro storico. La rottura dovrebbe essere riparata entro 15 giorni. E continuiamo, parliamo di istruzione, liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula si adegua ai tempi e cerca di offrire ai propri studenti la massima formazione ed educazione possibile, cercando di integrarla anche nel contesto sociale in cui i ragazzi si ritroveranno domani ad operare. Diversi progetti sono stati attivati e che abbracciano diversi temi della vita sociale ed economica attuale. Su questo tema abbiamo ascoltato Marco Lamonica di Bubble Work, che cura il progetto di scuola viva per il liceo Carlo Pisacane di Padula e l'assessore alla cultura del comune di Padula, Filomena Chiappardo, che ha parlato del progetto collaborativo tra comune e scuola. Il comune è a fianco della scuola in maniera molto importante. Il comune è uno dei partner del progetto Scuola Viva, un progetto che prevede l'apertura pomeridiana della scuola, per cui va contro quella che è la dispersione scolastica. Il modulo che curerà il comune di Padula è sulla cittadinanza attiva e sull'educazione alla legalità, per cui temi che sono particolarmente importanti per un'amministrazione. Oggi qui al liceo, durante l'Open Day, ho avuto la possibilità, insieme a Catia Pafundi del Centro Antiviolenza Retusa e a Amanda Cozza, di rappresentare anche la consulta delle amministratrici, perché nei prossimi giorni la consulta proporrà all'interno della scuola degli incontri sulla violenza di genere, per cui abbiamo iniziato già oggi a sensibilizzare i ragazzi su un tema molto importante. Babbel Works è parte della progettazione non solo dell'Iceo Pisacane, ma dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula Tutto. La prima progettazione a cui abbiamo collaborato è appunto Scuola Viva, questo bellissimo progetto pilota emanato dalla regione Campania, che si occupa di formare i ragazzi, di dare una formazione extracurricolare ai ragazzi su temi della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e della legalità. Siamo risultati tra i vincitori, tra le 300 scuole vincitori, della programmazione Scuola Viva. Attiveremo questi percorsi extracurricolari per i ragazzi. Siamo stati molto orgogliosi di essere stati tra i selezionati vincitori di Scuola Viva, ma non si ferma qui la programmazione dell'Omnicomprensivo di Padula. E quindi abbiamo progettato un percorso sulla legalità per insegnare ai ragazzi i percorsi di cittadinanza attiva e di legalità. Abbiamo progettato, partecipato e progettato a un percorso sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita. Abbiamo partecipato sempre con l'Istituto Omnicomprensivo di Padula a un progetto pilota emanato sempre dal MIUR per la creazione di curricula digitali nuovi per insegnare ai ragazzi l'utilizzo dei nuovi strumenti didattici e del nuovo materiale didattico innovativo. trasmediale e crossmediale e abbiamo partecipato infine sempre sul monitor 440 però questa volta la presidenza del Consiglio dei Ministri, il DPO, Dipartimento delle Pari Opportunità ha lanciato questo progetto per contrastare la violenza di genere e il cyberbullismo per insegnare non solo ai ragazzi, alle nuove leve, alle future generazioni ma anche a coloro i quali dovranno formarli, cioè agli insegnanti sia dei marker sentinella per poter capire subito che c'è un problema sulla violenza di genere o sulla ghettizzazione dei diversi ma anche appunto come poter contrastare la violenza di genere e il cyberbullismo o il bullismo che purtroppo come sappiamo anche dalle ultime notizie di cronaca nella scuola ancora alberga i sentimenti di ghettizzazione, anche razzisti a volte il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato questo bando è un progetto pilota anche questo, possono vincere 25 scuole in tutta Italia noi siamo orgogliosi di aver partecipato, aspettiamo la valutazione del Ministero siamo molto fiduciosi, scuola viva abbiamo vinto, speriamo rivincere anche questi progetti Intensa mattinata di studio molto particolare per i ragazzi dell'ITIS Gatta di Sala Consilina che ieri mattina hanno seguito una lezione via Skype mettendosi in contatto con la Microsoft i ragazzi delle classi quarta e quinta, quindi ieri mattina hanno seguito questa lezione particolare una nuova sfida li attende e questa volta si cimenteranno nel mondo dell'informatica in ambito di sviluppo Microsoft attraverso laboratori di coding e programmazione Acton e Workshop gli alunni svilupperanno le competenze tecnologiche e digitali necessarie per realizzare app per tablet e smartphone programmi specifici progettati per svolgere determinate funzioni nel mondo multimediale l'obiettivo pertanto si prefigge di arricchire le competenze tecniche degli studenti allo scopo di ridurre il gap tra scuola e mondo del lavoro e andiamo ora a Padula, è stato presentato sabato scorso presso la Certosa di San Lorenzo a Padula il libro scritto da Nino Melito Petrosino dal titolo Gioe Petrosino, l'incorruttibile la presentazione del volume ha visto la partecipazione di tanti relatori e anche quella del tenente Davide Acquaviva, comandante della compagnia Carabinieri di Sala Consilina a seguire per noi l'evento c'era Pietro Cusati, ascoltiamo le interviste Dopo 15 anni alla Casa Museo, puntualmente, tutti i giorni che ha creato il nostro Signore al fine del racconto della storia, ma ha scritto queste cose ah ma queste cose di famiglia le possiamo trovare da qualche parte possiamo trovare questa testimonianza? No, non ho scritto niente, mi sono stangato una vita che racconto questa storia di famiglia e ho dovuto per forza lasciare questa testimonianza è una testimonianza, quello che mi diceva nonno vicino a quel caminetto le serate d'inverno, con sta grandine che batteva vicino ai vetri ricordo come se fosse stato il mese scorso tutto quello che mi diceva sta là dentro l'ho presentato a New York, sta avendo un successo che non sta a me descrivere e ho incominciato la presentazione in Italia, tra Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e dopo le feste dovrò andare in Lombardia insomma non sapevo alla fine, non immaginavo che risquadesse questo successo Nino Merito lo conoscono tutti nel Vallo di Diano, a Padula e in Mezzomondo per mezzo secolo lui, prima di lui la madre, lo zio hanno trasformato questa storia dell'immigrazione italiana in una leggenda e un mito per Padula e per Mezzomondo questo libro è soprattutto questo, è la storia di come Nino la sua famiglia hanno fatto di Gio Petrosino un mito per questa terra e qualcosa di simile anche in America noi come associazione abbiamo già voluto che a Nino in quanto ha fatto in tutti questi anni abbiamo avuto il piacere di presentare il libro come associazione perché lui sia da pronipote e io che in collaborazione anche collaboratore con lui da tanti anni che andiamo avanti indietro e portiamo avanti questa pagina di storia così oggi siamo contenti di presentarci il libro come associazione un atto dovuto innanzitutto all'amico Nino perché è presidente dell'associazione Petrosino di cui io stesso faccio parte e soprattutto poi come docente che insegna qui a Padula e come persona che in qualche maniera è da sempre impegnato nell'ambito della legalità ho ritenuto più che doveroso accettare il suo invito la figura di Gio Petrosino con questo libro sicuramente ne risulta arricchita anche di tutti quegli espedienti, quegli aneddoti personali e familiari che sono la micro storia che si aggancia poi alla grande storia che è stata precedentemente già messa in evidenza da tanti ulteriori contributi sia scientifici che cinematografici domani mattina 21 dicembre alle ore 10 e 30 si terrà una conferenza stampa presso la biblioteca comunale Carlo Nisi di Sala Consilina in via Cappuccini per la presentazione del progetto di valorizzazione del patrimonio librario ammesso a finanziamento dalla regione Campania con decreto dirigenziale numero 175 del 2 dicembre 2016 interverranno per l'amministrazione comunale il sindaco di Sala Consilina, l'avvocato Francesco Cavallone l'assessore alla cultura, architetto Gelsomina Lombardi e responsabile della biblioteca, il dottor Michele Esposito continuiamo con la cultura e restiamo ancora a Sala Consilina dove è stato presentato presso la sede della società operaia Torquato Tasso il libro di Filomena De Paola dal titolo Gaetano De Vita e il poema La Lotta un evento che ha visto una grande partecipazione Pietro Cusati ha seguito la presentazione del testo e ha intervistato il presidente della società operaia Torquato Tasso Michele Calandriello il professor Francesco De Piscopo e l'assessore alla cultura di Sala Consilina Gelsomina Lombardi Siamo particolarmente orgogliosi di aver presentato questa pubblicazione su Gaetano De Vita Gaetano De Vita era appartenente, era uno dei soci fondatori del sudalizio e quindi oltretutto proprietario di questo palazzo dove oggi siamo ospitati grazie a una sua discendente Donna Pina Paladino che volle manifestare alla società operaia Torquato Tasso un atto di generosità donando appunto la sede sociale quindi oggi siamo nel Palazzo De Vita presentiamo una pubblicazione grazie alla signorina Filomena De Paola che con impegno veramente ha voluto appunto concretizzare questo saggio e siamo nemmeno a farla posta nella sala intitolata a Gaetano De Vita Gaetano De Vita che è stato un precursore ovviamente dei tempi è un salese illustre, è un personaggio illustre di Sala anche egli sindaco e assessore impegnato per il suo territorio davvero abbiamo dato lustro a un uomo moderno un uomo emancipato un uomo che veramente ha precorso i tempi non a caso nel suo poema proprio parla dell'emancipazione femminile la volontà che la donna conseguisse il voto occupasse gli scranni ministeriali quindi davvero un uomo importante per il nostro territorio e soprattutto colui che ha anticipato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la volontà per sala della costruzione di un teatro insieme alla società operaia ha impegnato 1500 lire un impegno serio dice per costruire ed elevare la civiltà e la cultura nella nostra città quindi non poteva che questa presentazione avvenire in un momento migliore nel momento in cui come amministrazione siamo per consegnare il teatro alla nostra città quello che nel lontano Ottocento De Vita voleva per l'emancipazione e l'elevazione della cultura sta oggi per avvenire quindi speriamo di rimanere impegnati e soprattutto impegnati ad elevare la cultura di sala come ha fatto De Vita è una figura assolutamente importante che meriterebbe di essere meglio conosciuta e valorizzata soprattutto per la sua vita così intensa così ricca di eventi come medico come politico ma anche come militare lui fece parte della Guardia Nazionale quindi l'aspetto militare anche della lotta che non è mai stato messo sufficientemente in vista in realtà risale anche a questa sua esperienza diretta poi il suo impegno come medico come medico proprio di questa città la sua lotta contro la sifilide ecco contro queste malattie che richiedevano un particolare impegno e poi la sua passione letteraria che è documentata da questo poema epico che è stato ristampato ma anche da altre opere e ora breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie bentornati alla seconda parte del nostro Tg il prossimo 27 dicembre l'auditorium di Sant'Anna Sala Consilina ospiterà un importante evento artistico che metterà in luce le grandi dote di due artisti locali alle ore 21 si terrà lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Domenico Colangelo attore e scrittore creativo e Nicola Linfante musicista e cantautore dal titolo con la valigia in mano l'evento promosso dall'associazione Teatro del Grillo affronta il tema dell'emigrazione italiana e non alla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri attraverso il linguaggio della musica della prosa e della poesia e andiamo a Sassano prende il via questa sera la settimana ricca di grandi appuntamenti per Sassano for Christmas la settimana che si avvicina che ci avvicina al Natale porta Silla di Sassano questa sera Gigione che si esibirà nel suo attesissimo concerto domani sera grandi risate con Ivan e Cristiano di Made in Sud a Sassano per questo Natale 2016 arriva a Gigione l'evento organizzato dalla Proloco di Sassano Sassano for Christmas che punta sotto le emozioni e l'atmosfera natalizia a promuovere il territorio con tutte le sue eccellenze sia dal punto di vista della produzione locale sia essa artigianale o enogastronomica ma anche per l'arte e la cultura continua con il suo ricco cartellone di appuntamenti dedicati ai visitatori di Sassano for Christmas che possono così trascorrere intere serate divertendosi con la musica e gli spettacoli mentre sono in tendi ai loro acquisti natalizi con ogni originale idea e regalo e successivamente possono trascorrere momenti di socializzazione mentre degustano specialità tipiche della tradizione culinaria locale e internazionale particolarmente intensi e di spessore gli appuntamenti delle serate che ci avvicinano al Santo Natale partendo da questa sera 20 dicembre con l'arrivo a Silla di Sassano di Gigione per allietare la serata del Sassano for Christmas con la sua musica e la sua grande capacità di coinvolgimento del pubblico nel corso del suo attesissimo concerto ma gli appuntamenti di questa settimana pre-natalizia non si esauriscono qui attesissimo anche l'appuntamento in programma domani sera 21 dicembre che vedrà salire sul palco di Silla di Sassano allestito all'interno della location del Sassano for Christmas direttamente da Made in Sud il duo comico Ivan e Cristiano che faranno divertire il pubblico con le loro esileranti gag divertimento e musica che continueranno ad allietare gli acquisti natalizi anche giovedì 22 dicembre con il coro gospel i grandi appuntamenti si susseguono in questa settimana natalizia girando tra i tanti stand presenti per scegliere le più originali simpatiche e allegre idee regalo e tra le tante opzioni gastronomiche presenti venerdì 23 dicembre si potrà anche assistere ad un altro attesissimo appuntamento sul palcoscenico allestito per animare il ricchissimo Sassano for Christmas saliranno Joe Amoruso e Rino Zurzolo che riproporranno la musica e le canzoni del grande cantoautore napoletano Pino Daniele nella sede della stazione marittima a Napoli ieri 300 società della FIGC Campania hanno eletto i 12 rappresentanti dell'Assemblea Nazionale della FIGC Sibilia verso la presidenza della Lega Nazionale di Lettanti 300 società presenti all'elezione dei 12 rappresentanti dell'Assemblea Nazionale della FIGC ieri le votazioni nella sede regionale della FIGC Campania dove è stato designato per acclamazione Cosimo Sibilia quale candidato unico alla presidenza della Lega Nazionale di Lettanti dopo che questi occupa già lo scranno di commissario straordinario della FIGC Campania dallo scorso aprile i 12 delegati al fianco di Cosimo Sibilia hanno ottenuto una grande affermazione mentre solo pochi voti per i delegati espressi dall'ex presidente Pastore da segnalare l'ottima affermazione per i tre candidati della provincia di Salerno Alfano di Campania Grisi di Colliano e Inverso di Agropoli è stato il giusto epilogo a mesi di lavoro portati avanti con grande abnegazione da Sibilia e dai suoi stretti collaboratori è commentato soddisfatto il delegato della FIGC di Sala di Sala consiglina Gerardo Lobosco il risultato ottenuto va nella direzione che la stragrande maggioranza delle società della nostra regione chiedevano da anni d'ora in avanti prosegue Lobosco si può guardare con fiducia al futuro e anche la fase commissariale potrà trovare un suo epilogo positivo con la convocazione dell'assemblea per eleggere i nuovi organi direttivi del comitato Campania che per il numero di società è il secondo in Italia non c'è incompatibilità per Sibilia nel ricoprire il nuovo incarico di presidente della Lega di Lettanti e quello di commissario straordinario in Campania ricorda Lobosco dove può restare fino al prossimo 30 giugno ma questa data potrebbe anche prorogarsi con questo risultato chiosa Lobosco e si è data una spallata a chi ha cercato in tutti i modi di ostacolare anche in questa circostanza però senza riuscirci quanti volevano rendere questo comitato una casa di vetro e portare il vento di pulizia e di rinnovamento e di legalità che sono mancati negli ultimi 20 anni di gestione Passiamo ora allo sport giocato partendo dal calcio occupiamoci del campionato di prima categoria con la vittoria del Certosa di Padula nel derby contro la Pollese K.O. per il Sassano Nel campionato di prima categoria Girone G continua la marcia e invetta la classifica della Gregoriana la formazione allenata da mister Menza trova tre punti fondamentali sul campo del Sassano a decidere il match dopo il calcio di rigore fallito nel finale della prima frazione dai locali con Vizzuso e Dente che con un palonetto buca la porta del Sassano dopo la sosta Troiano e Soji affronteranno la Pollese e avranno l'occasione per allungare in classifica visto che la diretta concorrente il Real Palomonte osserverà un turno di riposo Real Palomonte che non molla la presa la formazione di mister di Miedi in trasferta vince con un parentorio 0 a 3 sul Cicerale formazione che dopo un buon inizio di stagione si è arenata si allontanano dalla vetta Progogliano e Real Agropoli che si spartiscono la posta in palio nel match di sabato pomeriggio nei bassifondi della classifica e vittoria nel derby dello Stadio Medici per il Certosa di Padula che batte 2 a 1 la Pollese i Granata di mister Spinelli passano in vantaggio con Osman e Moscarella nel finale di tempo Pecchered accorcia le distanze ma non basta i gialloverdi per trovare punti importanti in ottica salvezza Passiamo al Futsal ancora brucianti sconfitte per il Futsal Clara Vie e la Cagianese nel campionato di Serie D vola la SD Pertosa che batte l'Isteia Polla nel derby Nel campionato di Serie C1 di Futsal ancora un boccone amare per il Futsal Clara Vie che inizia il girone di ritordo così come si è concluso quello di diandata con una sconfitta la formazione cara alla presidente Vincenzo Spinelli nonostante gli stravolgimenti di mercato non riesce ancora a trovare risultati per risalire la classifica contro il Benevento viene segnato in classifica infatti un nuovo K.O. Ora venerdì sera al Palazzingaro contro il Futsal non si può sbagliare vincere è un imperativo nel campionato di C2 il girone C invece la Cagianese era attesa da un match complicato contro il Real a Gerola doveva essere la partita del riscatto e invece si è trasformata in una nuova sconfitta per Morrone e compagni che ancora non hanno trovato i punti tra le muramiche in questa prima metà di campionato contro la terza forza del torneo termina 8 a 4 nel campionato di serie di girone F continua la marcia solitaria in vetta alla classifica per l'ASD Vertosa la formazione della presidente Manisera conquista tre punti importanti nel derby contro il Futsal in Steia Polla male lo Sporting San Pietro K.O. 4 a 0 in casa del Green Park mentre importante è il pareggio esterno conquistato dal Dolce Vita che fa 1 a 1 sul campo dell'Albanella e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti